ciao allora benvenuti nel video dei top del mese di gennaio 2018 allora il primo top di questo mese ecco che ve la mostro è questa la crema viso all'argan dice crema viso antità argan del marocco della bottega verde e questo è un campione ho solo un campione sì ma mi sono fatta un'idea di questa crema perché la uso solo alla sera quindi mi è durata quasi una settimana è una crema che ha una texture fluida assorbe molto velocemente sulla pelle però ha un pottino idratante buono abbastanza alto perché è un fluido ma ricco quindi ok in inverno usata la sera sulla mia pelle mista non lucida la pelle quindi al mattino non mi trovo con la pelle unta e la profumazione si me la ricordo è buona ma non forte non è invadente e non persiste sulla pelle è abbastanza buona come crema però per la sera perché per il giorno sarebbe troppo ricca ho segnato il prezzo per 50 ml viene 22 euro e 99 ma è un prezzo scontabile sì sufficienza fa il suo lavoro ok come crema non la compro perché preferisco altri prodotti secondo top per questo mese e questa è una scoperta che ho fatto proprio su youtube è questa tisana della pompadour vaniglia e lampone l'ho vista su youtube in un video e ho detto no devo provarla l'ho trovata da tigotà il prezzo è ditte 2 euro e 35 per 20 bustine esatto mi sono un po' segnata il prezzo così ve lo dicevo giusto allora intanto è una tisana per chi piace il tipo di tisana fantastica perché è dolce grazie alla vaniglia ma è gustosa con il lampone anche il profumo è fantastico a me piace davvero tanto sia durante la giornata che alla sera perché comunque non contiene teina e quindi è perfetta in qualunque momento della giornata senza zuccherarla perché davvero è buonissima così questa è davvero molto valida e ve la straconsiglio ultimo top per questo mese è questa questa è una caps è il crema doccia alla peonia di sefora allora questa l'avevo trovata l'ho proprio schiacciata tutta l'avevo trovata dentro il calendario dell'avvento sono delle mini capsule da doccia così si può provare il prodotto credo che sia anche un'idea intelligente perché si può provare il prodotto senza dover comprare tutta la confezione allora questa lo segnate la mini capsula che è una dose per una doccia costa un euro mentre l'ho segnato la confezione grande che è un 140 ml costa 3 euro e 90 allora cosa dire di questa crema doccia intanto che è facilissimo da pelire così poi si schiaccia bene è giusta la dose per una doccia la crema è una crema proprio che comunque fa una bella schiuma e vogliamo parlare del profumo perché è davvero peonia davvero fioritissimo non persiste sulla pelle questo no ma comunque durante la doccia resta nel bagno perché si diffonde con il vapore e l'acqua calda un profumo di peonia un profumo fiorito che è fantastico oltretutto non secca e non irrita la pelle deterge bene la schiuma si rimuove facilmente quindi questa mi è davvero piaciuta allora questi erano tutti i top del mese di gennaio 2018 come sempre fatemi sapere qui sotto se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così non perdrete le prossime recensioni beauty e alla prossima ciao ciao